Ritengo oggi possibile, anzi doveroso, pur in presenza di un quadro epidemiologico non completamente risolto, compiere una scelta coraggiosamente indirizzata verso un rapido ritorno alla normalità. Siamo nella condizione di attraversare la fase 2 con fiducia e responsabilità. Tutti ormai conosciamo meglio il virus, sappiamo come proteggerci, quali sono le regole di distanziamento sociale, di igiene, la funzione utile, a volte necessaria, dei dispositivi di protezione individuale. E mi rivolgo a tutti e soprattutto ai giovani, dei quali è pienamente comprensibile l'entusiasmo per la riconquistata libertà di movimento. In questa fase, più che mai, rimane fondamentale, anche quando siamo all'aperto, il rispetto delle distanze di sicurezza, è necessario l'utilizzo delle mascherine. Non è ancora questo il tempo dei parti, delle movide, degli assembramenti. Occorre fare attenzione, perché esporre se stessi al contagio significa anche esporre al contagio i propri cari.